Prego consigliere. Sull'ordine dei lavori. Volevo sottolineare all'aula, a chi ci ascolta, ai presenti, che oggi per la prima volta abbiamo sentito due nostre colleghe che si sono collegate all'assemblea da remoto, non per una malattia, ma per una cosa bella e sacrosanta come il fatto che siano diventate mamme. Questo credo sia una cosa molto importante, che quest'aula, un cambiamento che non solo ci mette a passo con i tempi, ma ci mette a passo con i diritti delle nostre colleghe. E' qualcosa di molto positivo, di molto bello, per cui chiederei un applauso all'aula, perché è un diritto che tutti noi abbiamo conquistato e che merita e che fa onore a questa assemblea. Grazie.